Inizio Uh, che porta sfiga, silenzio che porta sfiga, mi toccherà tirare i gabulanti, vi vengono in centrali ma sono felice che non c'è, non c'è, ma me la sei toccata in casa, no? Pelota pelota! Pelota pelota! Uh, 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 riuscivo a marcarlo io, si si ma c'erano due o tre altri 1.90, poi troppo veloce a girarsi, infatti io gli ho fatto far rigore perché gli ho fatto fallo. Va bene, ragazzi, vi saluto! Ciao Andrea! Ah, ma che cazzo è, grazia! Oh, questo da merda! Ah, ma che cazzo è, grazie! 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 Grazie!